Il mio fratello è stato in carcere 30 anni Ho imparato a fare la fotografia perché... Devo a togliere sui scheletri nel armadio 30 anni di giallo Cosa è difficile? Cosa è difficile? Guarda quello qui Guarda quello Guarda quello Eccolo il bro che porta avanti gli affari Si occupa del business, degli affari, della qualità Tutto deve essere in ordine, ok? Sì sì Quale partita? Lui vuole vedere la partita martedì Perché dopo gli affari c'è lo sport, le scommesse, le cose Grazie